Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Ilari Blasi toglie le mutande in diretta televisiva, il gesto sconvolgente indigna i fan e la collega Silvia Toffanin, padrona di casa a Verissimo . Ilari Blasi si toglie le mutande in diretta.Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare della presunta crisi tra l'ex calciatore Francesco Totti e la bellissima conduttrice Ilari Che sembra sostenuta da alcune teorie piuttosto particolari Infatti, in molti credono ai rumors che si sono divulgati velocemente in rete secondo i quali Totti avrebbe tradito la moglie, con cui ricordiamo è sposato dal 2005 Non solo ci sarebbe questa teoria, ma c'è persino un nome della presunta amante Stiamo parlando di Noemi Bocchi, con cui è stato paparazzato allo stagio Noemi e Francesco non hanno proferito parola sulla vicenda ma Ilari, stufa delle domande, ha finalmente detto la verità Ilari Blasi si toglie le mutande in tv.Ilari è stata recentemente ospite dalla collega, nonché amica, Silvia Toffanini, nello studio di Verissimo, dove ha parlato e chiacchierato di diversi temi della sua vita tra cui il suo matrimonio e l'imminente inizio dell'Isola dei Famosi che condurrà anche quest'anno Anzitutto, la donna ha in parte negato ogni presunta crisi o voce di corridoio che si sta diffondendo online Ha infatti detto che quello che sta avvenendo è un vero e proprio accanimento mediatico che danneggia lei ma specialmente la sua famiglia ed i suoi figli, che ormai sono grandi e cominciano a farsi delle domande e si sentono circolare voci sui propri genitori Ovviamente, la conduttrice ha sottolineato che non deve dare spiegazioni a nessuno ma che le sembra assurdo che testate giornalistiche importanti e di fama nazionale abbiano pubblicato la notizia come certa Punto superato l'argomento poi ha raccontato di quanto si è entusiasta dell'idea di cominciare la conduzione dell'Isola dei Famosi, per il secondo anno di fila L'anno scorso, donna aveva fatto una grande geff in puntata, che è stata trasmessa nello studio di Verissimo Punto quando la toffa Nina ha chiesto alla donna se replicherà la scena in cui si toglie gli orecchini al termine di un episodio dell'Isola, la romana ha risposto ironicamente con una frase che ha creato dell'imbarazzo ma anche tanta allegria in studio Ha infatti detto. No, mi levo le mutande domani. In tanti hanno riso assieme a Ilaria e Silvia ma tante altre persone hanno commentato sui social media dicendo di non essere affatto divertiti dalla frase, che ritengono piuttosto volgare Ci vediamo nei prossimi video